ciao come vi ho detto nel precedente video ho convinto mio padre a portarmi oggi da papà e questo poi farò un video sui smalti che comprerò e allora oggi è il 26 27 0 4 13 e ho già quanti vittori 20 questo è quello che volevo dirvi e poi che sono contenta che già ieri ero a 7 non mi ricordo e già sono a 7 a 20 mi piace spero di arrivare anch'io a di più non vedo l'orchio di 6 1 e mezzo mancano circa due orette a quando inizia Michelinia Nailab sono curiosa perché se oggi compro degli smalti simili dei suoi voglio provare a fare la rosa Nailart come vedete ho dovuto rasare il suolo le mie unghie questa che era la più lunga dovuta farla morire perché si era spezzata sono un po' spezzata tutta l'ora oggi mi sono fatta una manica adesso farò un altro video dopo di questo con un trucco della mia nonna tutto qua e dopo aumentate mi raccomando ciao